C'è un genoma, 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 c'è un genoma lo stesso. Tradotto in dialettica barese, se dobbiamo andare via, andiamo via, se non dobbiamo andare via, andiamo via comunque. 3, 2, 1... Ciao, sono Domenico, ho 48 anni, sono della provincia di Torino, sono di origini pugliesi. Sono un tecnico meccanico e ho una vita sempre molto molto in corsa, sempre impegnato con il lavoro e con tempi molto stretti. Circa un anno fa ho incominciato ad avere seri problemi ai denti posteriori, sia sotto che sopra, e ho incominciato ad avere dei seri problemi di nutrimento. Allorché facendo una piccola ricerca ho scoperto il Policlinico SOS Moldavia, e non ero molto convinto del viaggio, dell'avventura, ho inviato una panoramica dove mi è arrivata un referto video, un link di YouTube dove mi veniva refertato il lavoro, mi sono fatto coraggio, ho fatto le valigie e sono partito. Qui ho trovato, più che un Policlinico, ho trovato una vera e propria famiglia, uno staff composto da persone unite nel lavoro e con una passione, quella di dare, di far tornare il sorriso sulla bocca dei pazienti. Nasce un legame con queste persone che si protrae poi anche nel tempo, nasce un legame di amicizia. Personalmente mi sono trovato molto bene, ho trovato una professionalità che quasi non avrei neanche trovato in Italia. Il lavoro mi è stato fatto nell'arco di un anno con tre appuntamenti e ho patito zero, nessun problema. Sono riuscito a tornare a masticare, sono tornato a mangiare una bistecca senza dover fare mille, mille giri per poter sminuzzare la carne. Mi sono trovato molto bene, il lavoro è andato benissimo, il lavoro fin dal primo giorno mi ha dato soddisfazioni e quando arrivo qui per il viaggio conclusivo ho trovato anche delle belle sorprese. Lo staff della logistica è molto professionale, ti accoglie, ti dà la possibilità di ambientarti in questo paese che per noi italiani è un paese straniero dove la lingua pone molti limiti. Però l'ufficio logistica dà la possibilità di farti sentire a casa tua e nei trasferimenti, negli spostamenti, nelle gite ti danno la possibilità di fare una permanenza come se fossi quasi a casa. La clinica sono meravigliosi, nella clinica ho trovato delle persone stupende, ho trovato il mio dentista Sergei che è una persona molto professionale che mi ha seguito in un percorso che non posso neanche permettermi di criticare o di dire qualcosa che non mi è piaciuto. Io mi sono trovato molto bene, ho trovato veramente una professionalità che mi ha fatto tornare il sorriso e mi ha fatto tornare la voglia di nutrirmi e di mangiare come facevo una volta. Ringrazio a tutti gli amici di SOS Moldavia, Policlinico, siete stati stupendi. Un bacio caloroso a tutti quanti, ufficio logistica, grandi e clinica compresa.